Sono sei i femminicidi, duemila gli accessi in codice rosa al pronto soccorso per maltrattamenti salendo del 14,6% sull'anno precedente e quasi tremila le donne che si sono rivolte nel 2021 a un centro antiviolenza. È la fotografia fornita dal quattordicesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana realizzato dall'osservatorio regionale sulla violenza di genere e elaborato sulla base dei dati dei centri antiviolenza che in Toscana sono 25. Fuori rimangono i tanti casi non denunciati, soffocati dal silenzio, dalla paura e dalla vergogna. I numeri sottolineano la gravità e la costanza degli episodi di sangue. In 15 anni, dal 2016 al 2021, in Toscana si sono registrati complessivamente 128 femminicidi. Ma rispetto a questi casi estremi, sono moltissimi quelli in cui le donne segnalano di aver subito violenze. Inoltre, ci sono 741 donne all'anno che si rivolgono ai consultori, 224 che hanno chiesto l'intervento del pronto soccorso sociale, 114 che sono state ospitate in case rifugio. C'è un aumento della casistica, della violenza, che comunque continua ad essere una violenza soprattutto in famiglia, quindi sono le persone, gli uomini con cui si vive che sono gli autori di violenza e questo comporta un aumento della violenza sulle donne e di conseguenza un aumento sia della violenza assistita per quanto riguarda le bambine e i bambini, ma anche di violenza subita per quanto riguarda sempre i figli, delle donne che subiscono violenza nell'ambito familiare. Continua ad essere molto presente quella che è la violenza psicologica, quindi una violenza molto subdola che poi si traduce chiaramente anche in violenza fisica, ma che comunque diventa quella psicologica quella con cui si convive più a lungo. Un lavoro corale che dà anche il senso di come la regione toscana voglia rispondere a questo tema in termini chiaramente di prevenzione, a cura del lavoro che si riesce a fare nelle scuole, quindi prevenzione, informazione, ma soprattutto sappiamo che quando si denuncia è il primo atto di un percorso molto complesso, che comporta naturalmente ritrovare un luogo in sicurezza in cui vivere e soprattutto potersi rinserire progressivamente nella comunità e questo lo si fa solo mettendo insieme più azioni, più collaborazioni, più competenze e soprattutto anche più livelli istituzionali e questo che oggi vogliamo rappresentare il rapporto sia una raccolta di dati, ma soprattutto l'immagine di un lavoro in rete.